Ciao ragazzi, l'è la mia tartaruga che ha tanti nomi. Si chiama Crystal, Diamanta e Linda. Anche se maschio, beh però, comunque ho dei nomi anche femminili. Sono i miei femminili, caschina. Anche se maschio, maschio. E poi il primo aprile prenderò un'altra tartaruga. Perchè adesso sta ancora in un'altra tartaruga, ma non lo so. Questa è tutta la sua rabbietta. C'è questo, c'è questo, poi va bene, è tutto sporco. L'acqua di magiore, perciò c'è il suo mancino. E a parte che me l'hanno regalato questo. E qui, me l'ho regalato. Ecco, è un sasso. Anche se non l'abbiamo cambiata la tartaruga. Se la volete camminare, volete fare vedere camminare, ve la faccio vedere in giro. Aspettatevi ragazzi. Lei è un'altra tartaruga di magia. Grazie.